Amici e amiche del Simposio della Consapevolezza, questo videomessaggio è per voi. È per voi perché voglio ringraziarvi di cuore, di tutto il sostegno e di tutta l'amore e l'energia che avete inviato al Simposio della Consapevolezza, perché è stato un evento davvero grandioso. Per chi di voi non lo sapesse, lo scorso weekend a Jesu abbiamo infatti tenuto un'edizione del Simposio della Consapevolezza live. Ci sono state tantissime persone che sono venute e hanno partecipato e per me è stata una grande esperienza poterle accogliere e poterle riempire di tutto quello che c'è stato, che si è vissuto durante il Simposio. Grandiosa è stata la collaborazione con i relatori, grandiosa è stata la collaborazione con tutti gli standisti che hanno partecipato nell'area Expo, grandiosa è stata la collaborazione con lo staff che si è reso disponibile, tutte le ragazze e ragazzi che si sono resi disponibili per accogliere tutti i partecipanti per far andare al meglio questo evento, il mio grazie di cuore. E il mio grande grazie di cuore prima di tutto a Eric Comin che ha reso possibile la realizzazione del Simposio Live a Jesolo, in quanto lui lavora con la sua associazione Spiritual Elos proprio in zona, quindi ci ha aiutato veramente tanto, grazie, grazie Eric e grazie anche a Michelle e a Paolo che ci hanno supportato in tutta la creazione dell'evento. Grazie tantissimo anche a Mariella che sapete è la mia grande amica, collaboratrice, sorella, socia, un po' tutto, che mi sta supportando anche giornalmente nella creazione degli eventi della NAME. Ma sono qui soprattutto per ringraziare chi ha partecipato perché ha co-creato insieme a noi questo grandioso evento. E anche per chi non ha partecipato fisicamente lì al simposio, un grazie di cuore perché anche proprio grazie al supporto durante tutto l'anno, durante anche gli eventi online e gli webinar che ci avete dato, grazie a questo supporto che siamo riusciti a costruire un altro grande evento. Approfitto appunto per ringraziare anche chi fisicamente era lì perché con le sue donazioni è stato possibile appunto creare questo evento ma sarà possibile anche crearne degli altri perché le donazioni che ci sono arrivate oltre ad aver supportato le spese dell'evento saranno impiegate per la creazione di altri eventi del genere. Proprio con la modalità della donazione si riesce ad arrivare a tante persone e si può fare in modo che la conoscenza e la consapevolezza arrivino veramente a tutti, siano un diritto di tutti e questo sapete per me è davvero importante quindi grazie, 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 grazie per tutto quello che avete fatto e che farete. A proposito di quello che potete fare tra l'altro ho una proposta per voi. Si tratta delle videoregistrazioni di tutto il simposio live di Jesu, chi non è venuto ha la possibilità di acquistare le videoregistrazioni e anche queste vendite che stiamo facendo tra le videoregistrazioni andranno nel cassettino che servirà proprio per poter organizzare i prossimi eventi futuri. In questo momento abbiamo deciso di fare una stra-offerta per chi decide di acquistare entro il 12 ottobre la prevendita delle videoregistrazioni perché chiaramente non sono ancora pronte, le stiamo sistemando, editando, preparando, nel giro di un mese saranno pronte ad essere scaricate. A chi acquisterà entro il 12 ottobre queste registrazioni potrà pagarle meno della metà, infatti il prezzo ufficiale è 75 euro e in questo momento fino al 12 ottobre avrete la possibilità di acquistarla a 34 euro, quindi veramente è un prezzo ridicolo se pensate che potrete avere accesso a tutti i contenuti di tutti gli interventi tenuti in sala dai relatori. Per acquistarlo potete andare sul sito nella pagina di acquisto delle videoregistrazioni potete utilizzare il link che trovate nelle informazioni qui sotto, sia che avete ricevuto la mail, sia che state guardando il video su youtube, quindi avete il link per acquistarle. Io comunque rimango a vostra disposizione, se avete domande, volete informazioni, mi potete scrivere a simposio della consapevolezza chiocciolagmail.com. Per il resto vi ringrazio ancora di cuore per le grandi esperienze che sto vivendo, anche grazie appunto a voi e al vostro supporto, sappiate che presto arriveranno grandi, grandi novità, una in particolare che non posso dirvi ora, ma sappiate che veramente sto lavorando per voi, per far sì che tanta, tanta conoscenza e consapevolezza vi possa arrivare in modo semplice, pratico e diretto. quindi keep in touch, teniamoci in contatto perché ho grandi grandi cose per voi, ok? Vi abbraccio e grazie ancora, ciao a presto, buona giornata!